su chiamate voi facciamo 24? normali? bene organi 24 dai ma guarda che suonare qui non è mica facile beh, bisogna andare lì non è che sei questo diavolo dai ma eh volete fare anche un'attivata sotto o no? 12 proviamo a fare 12, volete provare? proviamo allora 24 e le 12 sotto questo è il diavolo segna? eh attenti allora dai lì non 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.